Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi. Come noterete ho lo stesso appigliamento, stesso sfondo, stessa acconciatura di microfono del video del giveaway, non so quando invece pubblicherò questo video. Però visto che ho un po' di tempo, volevo fare una chiacchieratina con voi e provare insieme a voi questo suono che secondo me è bellissimo. Intanto spero, devo trovare una soluzione un po' più comoda per appendere questo telo nero. Spero non si vedano troppi particolari del telo, però per ora accontentiamoci di questo. Sono andata a comprarlo stamattina, in realtà avrei voluto comprare un telo di cotone insomma un po' più decente, però costa una cosa come 12 euro al metro. Questi sono tipo 3 metri, quindi spendere 36 euro per un telo nero, contando che ho speso meno per il green screen, non mi sembra il caso. Non volevo comprarlo su internet perché c'erano delle recensioni pessime e non lo so, speravo anche di trovarla meno, sinceramente. Non l'ho pagato pochissimo, l'ho pagato poco, però non ho pagato poco in generale perché ne ho presi due, perché avevo paura che uno non fosse abbastanza grande, quindi poi ne avrei tipo uniti. Però in realtà è abbastanza grande, quindi credo che ne lascerò uno qui su e ne metterò uno giù. Oppure uno lo terrò in camera mia, ma da fare sfondo, adesso non lo so, vedremo. Abbiamo messo le nuove finestre in casa mia, quindi forse ci sarà un po' meno casino, però tanto adesso non sarò mai sola in casa. Prova. Perché la prossima settimana finalmente inizierò al tiraccinio. Dico finalmente perché per inizio a questo tiraccinio ho dovuto fare un esame che mi ha distrutto dentro, mi ha proprio messo alla prova psicologicamente e fisicamente, ma sono rinata, insomma. Ho avuto anche un po' di sfortuna in tutto ciò, però è andata, insomma. Allora, devo farvi un aggiornamento in generale, però voglio aspettare a dirvi alcune cose, magari aspettare anche a parlarvi del tiraccinio, così quando ci sarò in mezzo... Magari questo video entrò in onda, già quando ci sarò in mezzo, però è probabile. Però voglio appunto aspettare un attimo per vedere com'è, per raccontarvi bene un po' la mia esperienza. Comunque, io spero vi piaccia questo suono e spero, insomma, non vogliate in altri video perché a me piace tantissimo tenere così il microfono. Non prende troppo la voce, però è comodo tenerlo in mano, non lo so. Comunque, ho... Non lo taglierò. Non voglio tagliare. Quindi se vi peccherete... Non so cos'era, è che ho fame. Stasera cucino le penne all'ubriaca. Non è possibile. Ok, lo taglio questo. Pum. Vabbè, scusate. Comincia anche la sveva ad abbaiare. Devo fare un altro video con la sveva, visto che alcuni me l'hanno richiesto. La svevia, amore. Comunque. Ah, sì, oggi volevo parlarvi di un po' ciò che vi dovrete aspettare sul canale. Non tutto. Alcune voglio che sia una sorpresa, però alcune idee semplici che ho le voglio condividere con voi. Poi ovviamente ci sarà la sorpresa nel quando le pubblicherò, che dipenderà molto da quando avrò tempo di girarle. Allora, intanto ho preso il tero nero. Voi vi chiederete, ma perché hai preso il tero nero se hai il green screen e puoi fare tutti i colori che vuoi? Vero? Però non so se lo notate, ma questo cosino è leggermente verde. Quindi se magari volevo fare uno sfondo semplicemente nero, chiacchierando con questo bagaglio, non potevo perché sarebbe stato eliminato il mio cellulare. Quindi, scusate, questo video è proprio casereccio di quelli. E poi, non so, volevo uno sfondo nero che non fosse impegnativo da editare, come lo sfondo vedete comunque va illuminato e tutto quanto. Insomma, volevo uno sfondo nero semplice, non da editare. Allora, ve lo ricordo, non so quando metterò questo video appunto, però penso prima del 21 dicembre, quindi ricordatevi di partecipare al giveaway se non avete ancora partecipato. Anyway, allora, intanto qui non sono giù, infatti sentirete forse alcuni piccolini rumori di macchine, ma neanche tanto perché questo bagaglio esclude praticamente tutto ciò che c'è intorno, prende solo ciò che è vicino, infatti è fantastico. È fantastico tutto per la voce. e un po' per i tico 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 so che mi piace l'effetto è fighissimo non so se lo vedete ok, allora appunto adesso sto, visto che comunque voglio anche cercare di caricare tre video a settimana devo rendermi le cose un po' più facili quindi voglio voglio girare alcuni video qui su quindi quelli di tapping sicuramente e forse li vedrete un po' più spesso perché sono quelli che mi richiedono un po' meno tempo adesso che mi metto lì e di solito tanti tagli non ce ne sono diciamo che i video più relativi ovviamente sono i rocci perché uno mi devo preparare la roba due devo stare per forza giù e tre non lo so ci metto anche più nel letting proprio per concetto un altro messaggio scusate quindi allora quindi forse riuscirò a fare anche più video di hitting perché prima giù era scomodo però mi son detta ma perché non farli qui su alla fine ha messo una nuova scrivania molto più comoda e per girare video quindi l'unico problema un po' è la luce però vedrò di risolverlo perché è un po' basso e cosa volevo dire sì che che vorrei fare anche più video di hitting appunto perché così sto seduta normalmente sono comoda più tapping poi voglio fare un tapping più naudible e un tapping più mad sounds che mi sono stati richiesti tantissimo quindi questi saranno più o meno video not working voglio fare un tapping sulla frutta un tapping sul make up e un tapping sui pennelli da make up che a me piace da morire poi in italiano devo fare un role play di profumeria cioè di vendita di profumi insomma poi cosa volevo fare in italiano ha un video non motivazionale però proprio giusto proprio della serie dormi 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 volevo provarla in stile un po' di simagic che a me piacciono tantissimo quindi si già prendo spunto spero non le dispiace insomma a me piace tantissimo il suo stile e volevo provare un video del genere poi si un video un video in cui parlo della cosmesi che me l'avete chiesto poi un video di show and tell di tutti gli acquisti che ho fatto in questo periodo da metà novembre da adesso perché sono stata anche a Isbro quindi ne ho fatti anche lì e sono tipo piena quel video durerà 40 minuti sarà una cosa assurda e poi un altro video che mi è stato richiesto è quello di fare un video di lettura tipo di Natale davanti al camino e lo faccio molto ma molto ma molto volentieri mi piace tantissimo questa idea e spero di riuscire a parla prima di Natale se no sono un video di lettura normale davanti al camino ok poi di video in inglese farò molti roleplay perché mi trovo molto meglio quei robe in inglese e non mi trovo invece a improvvisare l'inglese non lo so non mi viene non sono neanche in grado probabilmente quindi in inglese voglio fare un altro video che dico un altro video no voglio fare un roleplay strano che però quello ora tengo a segreto un roleplay di cui non sono sicura però voglio un po' andare fuori dai miei schemi scusate non sto facendo più pink brushing quindi voglio fare un roleplay di applicazione di rossetti alla telecamera non a me vedo un modo come un altro per semplicemente mostrare i rossetti che ho conquistato perché la mia collezione di rossetti in generale è un modo un po' alternativo poi mi devono arrivare delle cose da un sito da Shinside no e ordinato dei pennelli e quindi farò un video di brushing con me e you tra parentesi ho tocchiato un sacco di pennelli su quel sito e un sacco di cose da poter utilizzare per i video su quel sito solo che praticamente quando ti contattano loro ti fanno scegliere una pagina in sconto quindi praticamente loro ti fanno c'è scritto pagina per blogger che quello in sconto no e solo che teoricamente poi loro ti su quella pagina ci sono solo cose orrende però in realtà se tu le scegli se tu vai in altra pagina e scegli una cosa in sconto te la fanno prendere lo stesso e l'ho verificata appunto prendendo i pennelli me li ha accettati quando non erano nella pagina che mi ha detto lei però in ogni sconto e e si quando farò il video ve lo dirò anche su facebook di cliccare il link in modo da far tanto traffico in modo che mi mandi un'altra roba da usare per il canale altri pennelli perché mi piace tantissimo fare il brushing sulla telecamera solo che non mi viene da comprarli perché non li uso per truccarmi se devo essere sincera quindi andare a spendere anche 10 euro per un per un pennello che non uso non lo so non mi va tanto quindi insomma poi è una vostra scelta io cerco sempre di sfruttare questi queste collaborazioni per siti per prendere cose che posso utilizzare sul canale mi sembra giusto purtroppo non mandano borse sapete che a me il tapping sulle cose piace tantissimo niente cercherò altra roba tipo la collana che mi ha mandato rombo e che ha un suono bellissimo e quella proprio avevo pensato cavoli la devo prendere perché insomma ha un suono meraviglioso e infatti tutti mi dicono che ha un suono bellissimo io sono troppo contenta appunto faccio un video così poi in inglese farò poi in inglese farò anche cosa volevo fare non mi viene più in mente vabbè saranno delle sorprese cosa devo farci in spagnolo c'è un roleplay pronto nel senso me lo so scritta e poi ho in mente un video in spagnolo di parole c'è così c'è tingly words non so come parole parole che suonano bene insomma parole ASMRose tringeroose come dice Firelle e quindi se avete da suggerirmele qui sotto suggeritemi delle parole in spagnolo che vi piacciono quindi in realtà ho molti più video in mente però non mi vengono in mente ora giustamente no perché se non vi che è giusto vabbè comunque io volevo ringraziarvi per tutto il supporto che mi date è assolutamente incredibile giuro incredibile non saprei come esprimere la mia gratitudine per tutti voi e sto provando a esprimere la carica un'altra vita settimana io vi adoro tutti quanti e devo essere sincera questo canale è stato molto importante per me durante questo brutto periodo che ho passato in questi ultimi mesi per via dell'università è stata veramente dura ma molto dura e diciamo fare video è stato un mio rifugio una zona in cui una zona di pace una zona in cui non dovevo pensare ed è stato e mi ha aiutato tantissimo e ho ricevuto anche dei commenti veramente speciali quindi io davvero non non so come ringraziarvi non so come dirvi che vi voglio bene non in un modo normale però provo davvero gratitudine verso tutti voi verso voi che in un modo che non immaginate fate parte di questa cosa meravigliosa io davvero non mi aspettavo che questo canale si imponesse prepotentemente sulla mia vita che frase vabbè insomma entrasse così tanto a far parte della mia vita è nato un po' non dico come un gioco però come un hobby e sta diventando tanto proprio una passione forte non so se lo state notando però sto investendo anche dei soldi su questo canale e però è tutto è tutto fatto con con veramente voglia ed entusiasmo perché vi adoro non c'è altro da dire proprio sappiate che ogni commento dolce una ragazza mi ha scritto insomma sappi che c'è qualcuno che c'è un'amica lontano da te una che ti considera quasi come un'amica cioè adoro quando mi scrivete anche semplicemente ti voglio bene grazie grazie davvero e altre cose personali quando mi mandate messaggi privati o mail dicendo magari io non ho mai commentato però ti volevo dire questo io davvero sono non so come dirvelo scaldano il cuore scaldano il cuore non saprei com'è altro esprimermi illuminano le giornate ed è veramente un qualcosa di speciale e mi sento davvero fortunata ad aver potuto costruire questo quindi basta un momento che mi eluso io spero che questo video mi abbia rilassato spero che vi piaccia questo trigger spero che magari vogliate altri video così semplici magari potrei fare semplicemente dei video che chiedeci solo con questo oh che figo questo ma è fighissimo oh mio dio i video e i video i video i video i video amo queste cose spero la mia anche voi perché mi diverto troppo ok allora ho parlato fin troppo grazie siete rimasti fino all'ultimo vi mando un bacione immensissimo davvero buon Natale buone feste non so quanto pubblicano questo che ti amavo insomma buon periodo delle feste sia se vi piacciono sia che non vi piacciono a me questo periodo non piace particolarmente quindi insomma buon buon dicembre in ogni caso e mamma un bacione gigante grazie 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 che li spero ciao grazie a tutti grazie a tutti